Ciao Marcello, ciao amici di Topland, Cagliari 0 Juventus 2, doppietta di Higuain, Oghiatone e bella partita, abbiamo giocato bene, il modulo è veramente devastante, lasciamo veramente le briciole agli avversari nonostante tutto un Higuain strepitoso, è un buffon stratosferico, una parata sotto gli occhi del grande Gigi Riva insomma che fa capire la grandezza di questo portiere, è arrivato un tiro e l'ha veramente salvato con un miracolo primo tiro in porta credo dopo 5 partite, per cui direi che il modulo anche a livello difensivo regge speriamo nulla di grave per Chiellini, e niente, continuiamo la nostra marcia, adesso sotto col Palermo non è una partita così scontata, il Palermo dovrà buttare tutto per tutto per cercare di salvarsi grande Juve, grande Juve, ripeto, grande modulo, grandissimo Higuain, che due palle gol, due gol, punto, stop, chiuso è solamente un campione, al prossimo video ragazzi, ciao!